Una discussione tra famiglie si è conclusa con un brutale omicidio ieri sera alle 22 a Tavuglia. Una coltellata è stata fatale per il 38enne albanese Drita Nidriz, già noto alle forze dell'ordine. Le indagini sono in corso, ma secondo le prime ricostruzioni, la lite sarebbe scoppiata tra famiglie di origine albanese, degenerando rapidamente in violenza. Durante lo scontro in via San Giovanni almeno quattro persone sono rimaste ferite e sono state trasferite all'ospedale di Pesaro per le cure necessarie, mentre la vittima è deceduta all'ospedale di Cattolica, dove era stata trasportata in condizioni disperate per un intervento chirurgico d'urgenza. I carabinieri intervenuti sul luogo dell'omicidio sono al lavoro per ricostruire l'accaduto e chiarire il movente del brutale omicidio. Secondo quanto si apprende, la vittima si trovava a Tavuglia per riscuotere un credito. Grazie a tutti.